Golfo di Policastro, Salerno. Attivata a Capitello la postazione del 118. La postazione dell'automedica nella frazione balneare del comune di Ispani è ormai una realtà. Concluso l'iter amministrativo per la concessione di due locali presso l'ex edificio scolastico al fine di ospitare il servizio di emergenza. Un cartello all'ingresso e due parcheggi, uno per l'automedica e un altro per l'ambulanza, sono l'identificazione dei locali. L'automedica, si trasferisce a Capitello da Policastro dove fino ad ora era ubicato. L'ambulanza, è un mezzo in più che si aggiunge alle ambulanze già presenti sul territorio potenziando il servizio di emergenza. A Capitello oltre ai due mezzi di soccorso sono ospitati il medico, l'infermiere, l'autista e le attrezzature necessarie per il pronto intervento.